Eccoci qua, dunque ben trovati, siamo pronti per una nuova analisi, pronti per la scoperta di una nuova poesia di Charles Baudelaire dai Fiori del Male. Da diversi giorni infatti abbiamo cominciato a darci al giardinaggio, a dedicarci al giardinaggio dei Fiori del Male, a prenderci cura di ogni singolo fiore, ogni singolo fiore malato, ogni singolo fiore affetto da quel morbo che affligeva anche l'uomo e il poeta Baudelaire. Baudelaire è un po' da immaginarsi come il bambino che come tutti gli altri commette il peccato originale, per questo cade dal giardino dell'Eden e si risveglia uomo nel giardino dei Fiori del Male. E meglio di ogni altro poeta forse esprime la condizione dell'uomo, la condizione dell'uomo dopo la sua sofferenza, la condizione dell'uomo che lo costringe a portare il peso gravoso e importante del peccato originale e quindi della caduta e della mancata benevolenza dunque poi del bene di Dio e degli occhi di Dio. L'ultima volta ci siamo lasciati con una poesia impegnativa, Splincatre, in cui Baudelaire ha descritto forse meglio di ogni altro componimento la situazione schiacciante dell'incurabile male, dell'insondabile tristezza e della dispotica angoscia atroce che è lo splin per ogni uomo, questo malessere incurabile, questa malinconia che fa parte di ogni essere umano dopo la caduta appunto dall'Eden. E dunque cominciamo qua con l'analisi di questo nuovo testo poetico, un testo poetico che come vi avevo annunciato in precedenza prevede una elevazione o comunque una possibilità per il poeta di poter perlomeno provare a spiorare in quelle rare volte in cui ci prova l'ideal. Dunque partiamo da quello splin di cui avevamo parlato per arrivare a comprendere qual è l'altro polo, quello direttamente opposto, quello che invece ci spinge a voler in qualche modo toccare l'azzurro o come scriverebbe Rimbaud a voler assaporare l'azzurro, il sapore dell'azzurro, è l'ideale. Questa poesia si chiama Le Balcon, il balcone, è una poesia che ha una musicalità intrinseca ed è forse una delle più belle poesie di Baudelaire, poesia che anche lo stesso musicista Debussy non ha potuto non musicare proprio per questa musicalità intrinseca e per la tipica ripetizione che noteremo durante la lettura e l'analisi di questo testo poetico del primo verso nell'ultimo verso. Dunque il primo verso si ripete nell'ultimo verso di ogni strofa e lo vedremo adesso. Ogni strofa qua è costituita esattamente da cinque versi, cercheremo di spiegarlo e di capirlo. Vi anticipo una cosa prima dell'analisi, la poesia crea ex novo, ich et nunc, una figura particolare, una sorta di ibrido femminile, un ibrido di donna che ha delle caratteristiche di madre e delle caratteristiche di amante. La critica ancora cerca di capire con chi Baudelaire abbia passato queste serate sul balcone o con la madre o con l'amante, ancora questo rimane abbastanza vago, proprio perché le caratteristiche di questa nuova figura creata ex novo appunto appartengono in parte a una madre e in parte ad un amante. E vedremo adesso di cercare di capire che questa è poesia del ricordo, poesia della ristorazione del tempo passato nel presente. Cercheremo anche di capire che questa avviene in maniera completamente diversa rispetto a quanto diceva Marcel Proust nella sua opera monumentale La recherche du temps perdu, e poi du temps retrouvé, dunque la recherche. Analizziamo dunque quest'opera per cercare di capire questa figura femminile ambigua, per cercare di capire lo stato d'animo del poeta che, come ho detto, cerca di sfiorare l'ideale e anche per cercare in qualche modo di capire questa restaurazione, questo fissare il ricordo tramite l'arte, che cercheremo di spiegare man mano che leggiamo. Le balcone. La prima cosa che notiamo, appunto come ho detto, è la ripetizione del primo verso, e l'ultimo, questo evento si verificherà in tutte le strofe che leggeremo. Mer de souvenir, maîtresse de maîtresse, quindi primo verso, quinto verso della prima strofa, mer de souvenir, maîtresse de maîtresse, dunque identico. Allora, vediamo che la poesia si apre con la parola mère, madre dei ricordi, mère de souvenir, e subito dopo maîtresse de maîtresse, dunque amante delle amanti. Quindi la figura già della madre e la figura dell'amante sembrano non solo coesistere, ma addirittura sovrapporsi già dal primo verso. O toi tu me plaisir continua, quindi tu, tutti i miei piaceri, questo ovviamente potrebbe alludere all'idea di un amante, ma subito dopo, o toi tu me souvenir, tu me devoir, scusate, quindi prima tu me plaisir, potrebbe essere un amante, tu me devoir è sicuramente una madre, tutti i miei doveri, tutti i miei compiti, tutti i miei obblighi, e quindi una madre, una madre dà delle regole a un figlio, non un amante. Tu te rappellerai la beauté des caresses, dunque la bellezza e la dolcezza si fondono anche in questo terzo verso, e vedremo che continueranno anche sotto, al quarto. Dunque ti ricorderai, vediamo come la parola ricordo, souvenir, c'est souvenir de quelque chose, dunque ricordarsi di qualcosa che torna all'esprit, quindi alla mente, è un concetto chiave di questa poesia. Dunque, beauté, come bellezza, ma bellezza delle carezze, dunque bellezza della dolcezza. La douceur du foyer et les charmes des soirs. Dunque la dolcezza del focolare, il dolce focolare allude a un'idea di protezione, a un'idea anche se vogliamo di infanzia, che possiamo aver passato con nostra madre, e che anche il poeta potrebbe aver passato. Il dolce focolare, no? Fa pensare all'idea di una madre che ti protegge, di una casa con il fuoco acceso, con il camionetto acceso, e una madre che ti fa queste dolci e belle carezze. Ma subito dopo, charme des soirs, dunque la bellezza delle sere, che invece può alludere a una passione condivisa con un amante. La bellezza delle sere, sì, potrebbe essere anche sentimentalmente condivisa con una madre, ma qui si parla di passione. Lo charme delle sere allude a una connotazione di passione, anche se vogliamo erotica. Attenzione a questo charme des soirs, perché potrebbe portarci a capire la differenza con Spleen 4, che abbiamo letto la scorsa volta e analizzato. Abbiamo visto che il nouver sans jour, noir, plus triste che les nuits, quindi questo giorno nero, questa opposizione, questa costruzione antitetica e ossimorica, allude al momento dell'arrivo della sera, che si mescola con il giorno, e quindi che si contraddice anche un po', ma Baudelaire non smetterà mai di muoversi su spazi duali e ritmi binari. Dunque, in Spleen, che abbiamo analizzato, la sera è il momento peggiore, perché comunque è il momento dell'arrivo dello Spleen, e la notte è il momento in cui lo Splint logora e tormenta, tra varie, come abbiamo letto nel Olecteur, tormenta il corpo e lo spirito. Ma qua si parla di charme, dunque, se nella poesia dell'altra volta, che è una poesia di connotazione splinetica, di situazione splinetica, schiacciante e soffocante, le sere soffocano l'anima, il giorno diventa nero, più triste che le notti, qua, più triste delle notti, qua le sere sono charmante, quindi sono piene di bellezza, di meraviglia, di dolcezza, di passione, di erotismo, e dunque una connotazione diversa che già ci spinge a una, quasi il raggiungimento della felicità, e dunque dell'ideale. E poi la ripetizione, come ho detto, merve souvenir, maîtresse, maîtresse, dunque, madre dei ricordi, amante delle amanti, e questa fusione, questi due ruoli, che non solo coesistono, come ho detto, ma si sovrappondono. Le soire illuminé par l'ardor du charbon, e le soire au balcon voilè di vapeur rose, che ton sang mette du, che ton cœur mette buon. Nous avons dit souvent d'imperissables choses, le soire illuminé par l'ardor du charbon. Anche qua, primo verso, le soire illuminé par l'ardor du charbon, quinto verso, verso dieci, Le soire illuminé par l'ardor du charbon, dunque, di nuovo la ripetizione, sembra quasi una canzone, quasi un ritornello. Allora, queste sere illuminate dall'ardore del carbone, dunque, fanno riferimento a quel foyer, quel focolare, dunque, pensiamo che possa far freddo, no? Perché c'è il carbone che ha, ma subito dopo, e le soire au balcon voilè de vapeur rose, dunque, non più serate nere, tristi, ma piene di vapori rosei, e serate al balcone. Cioè, se prima tu mi dici, Baudelaire, che fa freddo e che c'è il carbone che arde, poi mi dici che hai passato delle sere in balcone, mi fai pensare che forse così freddo non poteva fare se riuscivi a stare in balcone. Quindi non si capisce bene che stagione sia, se sia inverno o se sia all'arrivo dell'estate, visto che si può stare in balcone, o già una primavera inoltrata, non si capisce. E vedremo bene che Baudelaire questa confusione non la crea a caso, ma la crea perché questo è un tempo passato, un tempo restaurato, un tempo perduto che ritorna, e quindi un tempo senza tempo. Che non so mette du, dunque questo seno, che fa pensare magari a un figlio, che allatta il netare dei suoi giorni, che prende il latte dalla mamma, e che ton coeur mette bon. Ma qua in realtà il seno allude alla passione, all'amante, e il cuore allude invece alla mamma. Dunque du e bon, di nuovo si incrociano, si alternano e coesistono la dolcezza con la bellezza. Nous avons dit souvent d'amperissables choses, e quindi probabilmente avrà parlato con la mamma o con l'amante di queste serate in balcone. Les soirs illuminés par l'ordre du charbon. Dunque di nuovo torna questo carbone e l'idea e l'idea del carbone, quindi ritorna questa serata calda alla ripetizione, questa serata fredda in realtà che viene riscaldata dal carbone, ma prima abbiamo visto che si parlavano anche di balcone, quindi non si capisce bene. Questa giorni si. Che le soleil sono bello dans le chaudes soirées, che l'espace è profond, che le coeur appuisce. A me penchant vers toi, reine desi adoré, je croyais respirer le parfum di ton son. Che le soleil sono bello dans le chaudes soirées. Dunque di nuovo la ripetizione, che le soleil sono bello dalle chaudes soirées al verso 11 e al verso 15. Soleil e soirées. Calde e sere. Dunque qua le sere assumono la connotazione di essere calde, sembrano essere stile. Il sole che coesiste si fonde con le serate, con le sere. Dunque che cos'è? Un tramonto? O è di nuovo una costruzione antitetica bodleriana? Ovvero serate connotate dal sole particolare. o di nuovo l'allusione al tempo passato che viene restaurato e quindi di nuovo un'allusione a un tempo che non ha più tempo perché è un tempo recuperato. spazio profondo e cuore potente. Dunque sentimenti forti, sentimenti potenti, questo è uno dei topos del romanticismo, ma io farei attenzione a chi è l'espazio profondo. Questo spazio profondo che si proietta fuori dal focolare, fuori dal balcone. Dunque lo spazio profondo allude a che cosa? A quel tempo che dicevamo prima, un tempo che viene restaurato, riammesso al presente, un tempo che quindi non ha tempo. Il sentimento potente si perde nella rievocazione di questo tempo senza tempo perché il tempo del passato in realtà non muore mai se lo si fa tornare indietro tramite il ricordo. Pensiamo invece un attimo prima di procedere all'idea del balcone. È veramente uno spazio aperto il balcone? Punto di domanda? Non credo. Ok, quando io esco di casa tra la finestra dico vado in balcone sono fuori, sto all'aperto, ma sono fuori di casa? No. Il balcone fa comunque parte della mia abitazione, fa comunque parte della mia casa. Dunque il balcone è uno degli spazi aperti più ambigui di tutti. Perché? E quindi che allude a quella proiezione di un tempo ambiguo perché non ha tempo il tempo passato. Ecco perché sceglie il balcone perché la dimensione del balcone è una dimensione ambigua. È aperta ma mai troppo aperta. È aperta perché comunque vai fuori, c'è l'aria, vai fuori, ci può essere il vento, senti il calore della primavera e senti il sole bruciante dell'estate o il freddo dell'inverno. Ma non è comunque uno spazio aperto perché fa parte dell'abitazione e quindi non è come un campo, non è come un giardino, non è come un parco, è uno spazio all'nesso alla casa. Ok? Questo magari potrebbe fare riferimento a un amante. Credevo di respirare il tuo sangue, il profumo del tuo sangue. J'ai croyé respirer le parfum de ton sangue. Il poeta sta veramente respirando sangue? Oddio, conoscendo Baudelaire uno potrebbe anche dire di sì, ma non è così. Il sangue qua allude ovviamente all'idea della vita. Il sangue di vita dunque respirare il profumo del tuo sangue significa respirare l'essenza della tua vita, il profumo della tua vita. Che le soleil sono buone le chaudes soirées, dunque la ripetizione, questi soli nelle calde sere. La nuit si passissero insieme insieme di cloison. E mes yeux dalè noire divina te prudelle e si buvai ton souffle douceur au poison. E tes pieds s'endormers dans mes mains fraternelles, la nuit si passissero insieme 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 dunque la ripetizione qua di nuovo la nuit si passissero insieme in cloison al verso 16 la nuit si passissero insieme in cloison al verso 20 come succedeva anche in spleen con l'idea delle campane come succede in molte poesie di Baudelaire che si crea un'azione che ne interrompe un'altra senza alle volte avere effetti e alle volte invece sì qua si parla di notte dunque dalla sera il passaggio alla notte la notte però in Baudelaire non è solamente il passaggio tra sera e notte ma è l'immagine dello spleen è l'immagine di un'angosso qui però lo spleen non sembra trionfare come succede invece con il vessillo nero piantato nel capochino del poeta qui no qui la notte arriva spessa come un muro dunque lo spleen arriva solo per deturpare solo per disturbare per distruggere questo quadro idiliaco che Baudelaire sta dipingendo questa situazione meravigliosa in balcone o nel focolare che Baudelaire sta revocando dunque lo spleen durante la notte prova ad arrivare prova a sopraggiungere ma non ha effetto qui il ricordo è più forte il tempo felice prevale anche se la notte si faceva spessa come il muro dunque un'azione che prova a interrompere un'altra ma che in questo senso in questo caso non ha effetto alcune e messire dalle noire dei vignetti prunelles dunque i miei occhi visto che faceva buio indovinavano appena i tuoi e questo è qualcosa che allude per esempio all'animale del gatto il gatto Baudelaire è innamorato dei gatti i gatti durante la notte con la dilatazione della pupilla hanno una visione di una vista pazzesca che riescono a riconoscere qualunque oggetto però qua anche il poeta riesce a indovinare gli occhi della sua amata o di sua mamma ma qua è più la sua amata e bevevo il tuo respiro dunque entro a contatto con tutti i tuoi sensi prima respiravo il tuo sangue ora bevo il tuo respiro e il tuo veleno dolce che è il respiro per me il veleno torna spesso nelle poesie di Baudelaire e te piedi si andormi da me man fraternale dunque immaginiamo un uomo che prende i piedi di un amante o anche di una mamma e gli è la carezza si rilassano nel momento del sonno o nel momento della passione se volessimo parlare di un amante perché la notte allude anche alla consumazione del rapporto sessuale la nuì si passissi anziché un cloison ripetizione je sei l'art d'évoquer le minute heureuse e revi mon passé blotti dal degelù caracqua bon chercher te bottier l'angureuse ayer canton charcourt e canton casidou je sei l'art d'évoquer le minute heureuse qua di nuovo dopo l'arrivo della notte un cambio netto di argomenti ripetizione al verso 21 e 25 di je sei l'art d'évoquer le minute heureuse io conosco l'arte e io so come evocare quei felici istanti dunque io conosco il modo che mi permette di evocare il ricordo ma qui non è qualcosa di casuale come avviene in Proust tramite l'aiuto della Madeleine cioè Proust dovrebbe tutta la sua fama a quel biscottino nel tè che gli permette di costruire l'opera della recherche e la teoria del recupero del tempo passato e del ricordo in Baudelaire è tutta voluta non c'è niente di casuale Baudelaire dice io conosco l'arte di evocare queste minuti prezioni e dolci conosco ne sono capace so come si fa e come si fa si fa attraverso l'arte il ricordo attraverso l'arte non viene rievocato telquel cioè così com'è ma in Baudelaire viene idealizzato viene estetizzato dunque tutto questo ricordo questo tempo vago e perduto che si proietta nel tempo infinito al di là di un balcone si rievoca tramite la poesia tramite l'arte dunque Baudelaire qua è come se dicesse io so come si fa poesia e essendo Baudelaire può dirlo io so come si fa poesia e proprio perché so come si fa poesia e come si porta avanti questo tipo di arte so che attraverso essa io potrò rievocare il minuto perduto l'attimo felice ma non lo faccio casualmente lo faccio perché io sono capace di scrivere poesia dice e siccome sono capace sono capace anche di idealizzare il ricordo di estetizzarlo e per questo tramite la mia nobile artica la poesia di elevarlo di spingerlo all'ideale di spingerlo all'assoluto di spingerlo verso l'azzurro dunque non di evocarlo così com'era ma di estetizzarlo di renderlo più bello di renderlo poeta e quindi ciao e quindi di fissarlo ci vediamo sei nel video vedi il video ciao saluti anche dalla mia coinquilina che se ne va parte beata lei io invece tra un po' vado a lezione no scusate riprendo c'è l'art d'evocare le minuti il principio d'evocare questi momenti felici tramite la poesia di fissarli di idealizzarli di estetizzarli quindi lasciarli all'infinito un ricordo felice con la morte un ricordo felice con la mamma dunque ecco io so come si fa e dunque la ripetizione di nuovo e dunque la conclusione essendo arrivati al concetto che questo tempo perduto è un tempo nel passato un tempo che può essere riportato alla luce solo tramite la poesia che lo estetizza lo idealizza e lo eleva Baudelaire ci porta ad esempio una metafora lustrale la metafora del battesimo dicendo che come il sole tutti i giorni si immerge nel mare per purificarsi per dar vita a un giorno nuovo così fa il ricordo nella poesia si immerge nella bellezza del verso e torna elevato torna estetizzato e quindi tramite questo fissaggio tramite questa idea di un ricordo bello rivocato dunque le promesse i profumi e i baci emergono e riemergono idealizzati estetizzati e fissati quindi battezzati a nuova vita riemergono da un guf quindi da un abisso un abisso che solitamente è amaro l'idea dell'abisso e l'idea dello splin ma qua no qua Baudelaire parla di un abisso che è capace di rievocare il ricordo è l'abisso della memoria è l'abisso della memoria che riporta alla luce battezzando il ricordo a nuova vita tutto quel ricordo tramite l'arte di fissarlo che è la poesia dunque anche oggi abbiamo esplorato un altro Baudelaire scopriremo altre facce di Baudelaire per ora io vi saluto perché tra pochissimo tra pochissimissimo c'è lezione c'è lezione di letteratura francese dunque devo scappare e c'è lezione su Baudelaire e dunque non posso mancare per aggiornare anche voi e per aggiornare visto che il 26 maggio ho intenzione di dare l'esame sì qui c'è poco da idealizzare ciao ciao ci vediamo presto grazie a tutti